Non finisca qui, c'è la visita ora. Bedrice! No, quando mai la novità. Perché novità, stai atti zitto. Se no, a visitare il cimitero, si mette a trovare la nonna. Qua è il costume, andare a trovare la nonna. Tutto quanto, zio, guardate. Il cimitero di papa si mette. Se no, non si mette. Ho fatto il cuore. Ho fatto il cuore. Dio di me, la nonna. Ho la giù, il tarantello. Ho la precessione. Quando ci siamo? Beatrice! E' la mia mamma. Aiuto! Stai facendo vedere. Che vuoi fare il figlio? Ma perché? Che la nuova mi dà? Mi dà? E' già, intatti. Fragi, saluto. Andri, vieni qua. Saluto. Sali, salva a distanza. Vabbò, che senti? Nuvi.